Ciao a tutti! Oggi parleremo di dashcam, ovvero quella telecamera che va installata anteriormente all'auto per poter riprendere quello che accade. Prima di tutto vediamo perché è utile installare la dashcam. Questa telecamera piccola ha l'utilità di poter riprendere quello che accade davanti alla vettura così in caso di un sinistro può essere utile, abbiamo una testimonianza video che dimostra il perché è accaduto questo sinistro. Molto facile, io ho acquistato questa dashcam sempre della Atoto, ho fatto passare il cavo della dashcam USB sotto tutte le coperture andando a inserirla posteriormente all'autoradio. Infatti l'autoradio ha la predisposizione per l'USB posteriore così che va a registrarmi il video. In questo momento qui c'è questa scritta qui REC che dimostra che sta registrando esattamente l'immagine che abbiamo davanti. Questa registrazione viene effettuata nella SD che in caso di sinistro, blocco quindi di autoradio e quant'altro, io vado a disinserirla e consegnarla, in questo caso può essere all'assicurazione. La trovo molto utile, la consiglio, è semplice da installare, ci sono vari modelli. Preferisco avere questa qui perché questa ha semplicemente, non so se si vede anteriormente qui, la telecamerina, il cavo come ho detto prima che arriva all'autoradio, evitando così di avere qualcos'altro attaccato al vetro. Ci sono altre dashcam che però vanno a ostacolare la visibilità. Quindi consiglio questa che è comoda e installata dietro lo specchietto. Grazie per la visualizzazione, se questo video ti è piaciuto condividilo oppure metti un like. Alla prossima, ciao!